Per noi è un grande piacere svolgere questo servizio per le persone che purtroppo hanno più bisogno di noi e quindi noi impieghiamo volentieri il nostro tempo libero affinché possiamo essere utili a queste persone. Per noi non è molto dare un po' del nostro tempo libero in contrapposizione al fatto che andrà a beneficio di tante persone che purtroppo sono più sfortunate di noi in pratica. Sono stati oltre 90 i volontari coinvolti nella raccolta alimentare che si è svolta sabato scorso nei supermercati Copp dell'Aretino. Oltre 4.600 i chilogrammi di alimenti donati alla Caritas di Ocesana per aiutare le famiglie in difficoltà del nostro territorio. Cerchiamo di fare un po' di volontariato perché ci sono tante famiglie bisognose, anche di Aretini che magari insospettabilmente non riescono ad arrivare alla fine del mese quindi cerchiamo di fare quello che serve. Sempre più grande purtroppo la percentuale delle famiglie che rientrano nei cosiddetti nuovi poveri. Ci sono tante famiglie, tante situazioni all'estremo quindi il bisogno aumenta ogni giorno quindi noi siamo molto felici e consapevoli di quello che richiede la società. Anche una piccola cosa, l'importante è partecipare.